Quando si studiano certi sconvolgimenti è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un uomo dall'idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa. Occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive della società e i rapporti di produzione, una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso. Nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società, le condizioni immateriali della loro esistenza. Ecco perché l'umanità non si pone se non quei problemi che può risolvere, perché a considerare le cose da vicino si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della sua soluzione esistono già o almeno sono informazione. Ebbene sì, come ultima monografica del 2022 e quest'anno che è stata una grande cavalcata per Daily Cogito, ci meritiamo la monografica su Karl Marx. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie si è davvertiti. Se il mondo gira a rovescio, tu rivoluzionalo. Questo potrebbe essere il motto della filosofia di Karl Marx. Rivoluzionano con la filosofia, una cosa più concreta di quanto possiamo immaginare. E questa sera c'è una monografica a lungo attesa. Sì, è la Reload. La seconda monografia su Karl Marx. La prima ormai è di tempi molto molto andati. E mi sembrava il caso di rinfocolare un po' i ragionamenti su questo che è volenti o non volenti un grande pensatore. Un pensatore che ha veramente sconvolto il panorama filosofico, culturale, sociopolitico e economico del nostro mondo. Uno spettro si aggira per l'Europa. Lo spettro del comunismo. Marx però non è soltanto comunismo. Marx è prima di tutto un grande e attento analista della società, del mondo che lo circonda. Analisi che hanno prodotto dei pensieri importanti. E Marx, di nuovo che ci piaccia o meno, è indubbiamente il filosofo politico di maggior influenza del XIX secolo, se non addirittura il filosofo più influente degli ultimi 200-250 anni. Tutti hanno dovuto confrontarsi con la sua analisi economica, con la sua visione antropologica e le sue proposte politiche. E raramente nella storia le teorie di un filosofo hanno visto così repentinamente e massivamente la loro applicazione e la ricaduta sociopolitica sul mondo rispetto a Marx. Nel bene nel male, perché poi queste ricadute hanno avuto effetti interessanti, effetti disastrosi, che andremo un po' a argomentare, ma non troppo questa sera perché vorrei stare sul filosofo, prima che sulla figura politica. E la sua influenza è, io credo, ineguagliata nella storia, perlomeno in un tempo così repentino. Perché certo qualcuno potrebbe dire, beh ma Aristotele ha influenzato un'intera epoca, è vero, però a distanza di tempo e con effetti e interpretazioni molto diverse da quello che poi Aristotele aveva scritto, la stessa cosa potremmo dire che sia successa con Marx, però in misura minore e in molto meno tempo. E quindi va affrontato Marx. È un filosofo che si inserisce nello snodo storico cruciale del nostro tempo, la rivoluzione industriale. Una rivoluzione che sappiamo è ancora in corso, perché il metodo di produzione industriale nato fra fine 700 e inizio 800 in realtà trova la sua lunga coda nella rivoluzione informatica, tecnologica di questa epoca. E tanti ragionamenti di Marx, secondo tantissimi autori, tantissimi interpreti, valgono ancora oggi. Sicuramente non possiamo stare indifferenti. È un interprete di un mondo in radicale mutamento e direi un mutamento che sta ancora avvenendo. Ed è un pensiero da cui sono sgorgati fiumi di idee e di sangue. E questo è un'altra cosa che non può essere ignorata. Insomma, Marx non può lasciarci indifferenti e questa sera cercheremo di andare a fondo in questo suo pensiero. Quindi, buonasera a tutti! Siamo all'ultima monografica del 2022. È stato un anno di tante monografiche, abbiamo fatto veramente tante cose insieme, quindi volevo finire con un punto esclamativo. E il punto esclamativo è Marx. E dico punto esclamativo perché voi sapete quanto io, e lo metto subito davanti a me, mi sia sempre definito un pensatore antimarxista. Per tanti motivi. Lo ero anche in gioventù quando potevo sentirmi molto più vicino a una certa immagine della sinistra progressista rivoluzionaria. Ma anche lì mi ero legato a una sinistra che era antimarxista, quella di Gilles Deleuze, Michel Foucault, che hanno sempre criticato Marx pur riconoscendone la grandezza. Quindi io ho un bias. Il bias è il fatto che ogni volta in cui mi sono avvicinato a Marx ho sentito più repulsione che interesse. Nonostante questo riconosco la grandezza del pensatore. E ogni volta in cui l'ho studiato ho visto anche i motivi per cui Marx ha avuto questo enorme impatto con il mondo suo e con il mondo nostro. E quindi ci tengo a questa monografica. Perciò io lo dico subito. Chi si aspetta sangue e arena e polemiche è nel video sbagliato. Perché in realtà questa serie io cercherò di fare un atto divulgativo. E come sempre vi ricordo che l'intento della monografia non è quello di farvi sentire comodi con la conoscenza a posto dicendo nella testa adesso ho capito Marx. No, il mio intento è quello di farvi leggere Marx. Quindi come sempre in descrizione trovate i testi che io consiglio e poi andremo a citare brevemente. Perciò ricordatevi non accontentatevi di quello che vi dice Rick Duferre. Perché Rick Duferre oltre ad avere la sua prospettiva sulle cose e quindi dalla sua interpretazione che può essere giusta, sbagliata, interessante, poco interessante e lo deciderete voi. Però da sempre la sua visione limitata delle cose ed è importante rendersene conto. Quindi mi raccomando. Allora, buonasera. Siamo in tanti questa sera quindi sono molto contento. Perché in live io ricordo che la monografia funziona in questo modo. Io faccio i miei monologhi diviso ovviamente in capitoli. Fra un capitolo e l'altro vado a leggere qualche domandina. E c'è il box delle domande in blu nella chat, mi raccomando. Ci sono già alcune domande. Allora, non rispondo alle domande sulla vita di Marx perché, vabbè, io non parlo mai della vita dei filosofi nelle monografie, sennò durerebbero sei ore e mezza. Leonardo chiede quanto ritiene importante Marx in quanto sociologo. Ritengo che il metodo del materialismo storico di Marx abbia di fatto fondato la sociologia contemporanea, per come la intendiamo. Poi ne parleremo sicuramente. Opinione da ignorante in filosofia. Tutte le dittature, dice Napolium, tutte le dittature comuniste sono nate poiché i vari alieni in e compagnia si sono fermati alla dittatura del proletariato senza andare oltre. Cosa ne pensi? È un'interpretazione? Sì. Tanti sarebbero in disaccordo con questo. Io sono abbastanza d'accordo, ma questo è dovuto al fatto che, dal mio punto di vista, come avrò modo di argomentare, secondo me non può che andare così. Non può esserci materialmente lo sviluppo successivo alla dittatura del proletariato. E stasera spiegherò anche il perché. Ha a che fare, secondo me, con la visione antropologica limitante dell'essere umano che Marx porta nella sua filosofia. Ultimate chiede cosa rende così inaccettabile per i comunisti una visione sociale individualista e così preferibile una filosofia collettivista e di finto altruismo. Io ci vedo molto più egoismo nel secondo caso. Troveremo la risposta durante la monografica, perché è uno dei motivi che ho sviluppato nella trattazione, quindi abbi pazienza e troverai la tua risposta. E Francesco chiede, Marx ha sempre posto il bene dei molti ai pochi. Da alchimico non riesco a capire come avrebbe mai potuto determinare con esattezza cosa sia giusto e cosa sbagliato. Avrebbe messo a votazione? Beh, guarda, Francesco, posso dire con gran tranquillità che questo purtroppo è un difetto di tanti filosofi. Tantissimi filosofi nella storia hanno cercato di convincere gli altri che la loro idea di bene era quella corretta imponendola con argomentazioni e via dicendo, da Platone a tanti altri. Quindi questo purtroppo è un po' un difetto dei filosofi e non possiamo farci granché. Allora, quindi dicevamo, voi fate le domande lì, io poi fra i capitoli cerco di leggerne alcune, non potrò leggerle tutte perché siamo in 600, peraltro siamo in più dei 600 e vedo solo 264 mi piace. Mettete mi piace, vi ricordo che è gratuito, aiuta la trasmissione. E altra cosa, siamo circa a 1925-30 abbonati attivi. Sarebbe una grande festa se durante questa monografia superassimo i 2000 abbonamenti qui su YouTube. Quindi dateci una mano, ok? Dateci una mano, fateci arrivare a questo traguardo, cosicché possiamo dire a tutti riprendiamoci i mezzi di produzione, ok? Va bene? Riprendiamoci i mezzi di produzione, compagni! E quindi grazie a tutti quelli che si stanno abbonando e grazie a quelli che si abboneranno. Adesso io direi che potremmo anche iniziare, grazie Nicolò, eccolo qua, un altro in fuga dagli zombie. Io direi che potremmo anche iniziare Vincenzo Maria, un altro in fuga dagli zombie, grazie mille. Dicevo, potremmo anche iniziare con la nostra monografia, ma prima, visto che il capitalismo a noi ci piace, è il momento dello sponsor di quest'oggi, ovvero Cambly. And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you, I will show you fear in a handful of dust. Ehm, Rick, tutto a pasto? Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one to one, che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E visto il grande successo della promozione del Black Friday, Cambly ha voluto estenderla anche per tutto il mese di dicembre. Quindi, con il codice sconto che trovi in descrizione, avrai accesso a uno sconto del 60% sul piano annuale. Oltre a questo, una lezione gratuita di 15 minuti per testare il servizio e non puoi davvero perderla. Fra un anno guarderai indietro e dirai, per fortuna ho cominciato a usare Cambly, perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale. Perciò, perciò, ben trovati a tutti. Grazie a Cambly per sponsorizzare la nostra trasmissione, grazie a chi usa i nostri sponsor. Ricevo molti messaggi di persone che sono contente di quello che portiamo. Voglio anche ricordarvi una cosa molto molto breve. Prima di fermare le trasmissioni, noi smetteremo di trasmettere il 20 dicembre, perché poi abbiamo il trasloco da questo studio che avete amato. Infatti questa è l'ultima monografia da questi Cogito Studios. Ci trasfereremo qui vicino, ma in un posto più grande, più figo e incredibile. E dal 20 dicembre poi ritorneremo a trasmettere il 16 gennaio. Non preoccupatevi, durante le vacanze avrete comunque dei contenuti imperdibili. Ma accanto a questo, noi concluderemo la stagione, questo 2022 con il botto, perché il 17-18 dicembre a Schio si terrà il Cogito Festival. Due giorni di dezombificazione pura, con più di 20 ospiti, fra cui Renato Minutolo, Romina Falconi, Marco Merrino, Victor Lazlo. Avremo Andrea Biasci, Lucrezia Ercoli, Giulia Pastorella, Vittorio Emanuele Parsi, Oscar Giannino, una montagna di persone spettacolari. L'ingresso è gratuito e libero, fino a esaurimento posti, e visto che ci sarà tanta tanta gente, date un'occhiata al programma su dailycogito.com, link in descrizione, e venite a trovarci, se siete di Schio o dintorni, ma anche se venite dal Burundi, dalla Mongolia, dal Giappone o dal Sud America. Venite, sarà una grande occasione. Ma adesso è giunto il momento della nostra monografia. Come sempre partiamo con le opere consigliate. Tutte quante le trovate in descrizione, in descrizione, leggetelo Marx, non accontentatevi di quello che dirò io, anche perché è una lettura edificante, cioè nel senso è importante, è un autore importante da leggere. Ricordatevi, leggete gli autori con cui siete in disaccordo. Magari poi siete anche in accordo con Marx, io sono in disaccordo ed è per questo che lo leggo. Opere consigliate. Sono cinque più un piccolo bonus. Prima di tutto, vabbè, il capitale. Ora, attenzione, non è l'opera da cui consiglierei di cominciare di Marx, perché è un'opera oltre che vastissima, però un'opera difficile. È l'opera più importante e famosa di Marx, la sua opera di filosofia ed economia politica, l'analisi del capitale, l'analisi del concetto di merce. Insomma, è un testo abbastanza tosto, che io non ho mai letto integralmente, lo dico, ma perché sono tantissimi libri, ho letto le cose principali, però è un testo importante. Il testo da qui si potrebbe partire è I manoscritti economico-filosofici, perché lì si trovano i ragionamenti che Marx fa su Hegel, sull'idealismo classico, sul materialismo storico, si trovano le genesi delle sue intuizioni più tarde ed è un ottimo libro da cui iniziare. Anche lì, ricordatevi, Marx non ha una prosa proprio facilissima, però si può fare. Il terzo libro, che si trova, in cui si trovano altri concetti fondamentali, è la concezione materialistica della storia, che è forse l'altro libro più importante rispetto ai manoscritti. Il quarto libro è l'ideologia tedesca, quello in cui ci sono i prodromi della visione politica di Marx, una critica al mondo circostante, insomma, importante. E poi c'è il manifesto del Partito Comunista, che, lo ripeto, come detto in pre-live, secondo me è il libro meno interessante, ma non tanto perché io sono anticomunista, ma perché il Marx analista della società sua contemporanea è la cosa più interessante. Il Marx propagandista delle conseguenze del suo pensiero, secondo me è molto meno interessante, perché il manifesto è un libro di propaganda politica. Però uno lo legge, si fa un'idea sua e poi capisce quello che pensa. Consiglio, però, un libro su Marx, che è il Karl Marx di Isaiah Berlin, che ancora ad oggi, secondo me, è il testo più equilibrato su Marx, perché è un pensatore molto acuto, Berlin, che ragiona in modo critico, pur con l'ammirazione nei confronti di Marx, e devo dire che la visione che io ho di Marx comunque è stata abbastanza influenzata da questo libro, quindi lo consiglio. Queste sono le opere che consiglio, e a questo punto direi che è giunto il momento di iniziare la nostra trattazione con il primo capitolo della monografica. Mondo rovesciato, mondo alienato. E iniziamo, come sempre, con una lettura. Come non è la religione che crea l'uomo, ma è l'uomo che crea la religione, così non la costituzione crea il popolo, ma il popolo crea la costituzione. E le istituzioni giuridiche e politiche e le diverse forme di Stato non possono spiegarsi da sé e in virtù di un sedicente sviluppo dello spirito umano, ma risultano dalle condizioni materiali di vita che Hegel, seguendo i francesi e gli inglesi del secolo XVIII, designa col nome di società civile, società di cui l'anatomia è fornita dall'economia politica. Ho voluto cominciare con questa lettura perché immediatamente, leggendo Marx, è molto chiaro che lui ha una visione della filosofia che è veramente nuova. Infatti il pensiero di Marx parte da una cosa che in realtà si vede in tutti i filosofi. Io ho capito che cos'è la filosofia, evidentemente ogni filosofo scrive i libri pensando di aver capito che cos'è la filosofia, però parte dall'idea che tutta la storia della filosofia condivida un errore che in realtà gli intellettuali, i pensatori, hanno fatto in ogni campo del sapere. Il rovesciamento fra ciò che è mentale e ciò che è materiale. E il pensiero di Marx, questo rovesciamento di cui avete sentito, insomma, nella lettura le tracce, parte da un'aspra critica nei confronti di Hegel. Attenzione, Marx inizia i suoi passi nella filosofia grazie ad Hegel. Infatti il pensiero di Marx fa parte, poi si stacca ma fa parte di quella che viene denominata la sinistra hegeliana. L'idealismo classico tedesco di Hegel è uno dei punti di partenza di Marx e Marx infatti riconosce la profondità nell'opposizione delle determinazioni di Hegel. Ovviamente c'è la monografica su Hegel, trovate tutto quanto qui sul canale se volete recuperarla, però se volessimo riassumere la grande intuizione di Hegel è che il dipanarsi della storia umana è un dipanarsi attraverso le conflittualità fra le determinazioni e quindi c'è il movimento dialettico della storia. In Hegel lo spirito del mondo si autoconosce, sto semplificando enormemente per dire queste cose in pochi secondi, però recuperate la monografia se volete, lo spirito del mondo nel dipanarsi attraverso la storia conosce se stesso attraverso la conflittualità e la contraddizione delle sue determinazioni singolari che sono la coscienza, l'autocoscienza, la ragione, l'individuo, la collettività, il popolo, lo stato, la costituzione, la legge e via dicendo. Queste determinazioni singole si scontrano e fanno procedere questa storia dello spirito universale. Marx riconosce in questo una grande profondità, cioè l'idea che nell'opposizione delle determinazioni singole ci sia il dipanarsi di questo spirito universale. Ciò che rifiuta è l'idea che protagonista di questa storia sia lo spirito, inteso come entità trascendentale, assoluta e via dicendo. Ma l'idea di dialettica hegeliana come la storia che nasce da conflittualità, beh questo è uno dei punti essenziali per far capire da dove nasce tutta la struttura del pensiero marxiano. Il problema, e la grande critica che Marx fa ad Hegel, è che Hegel rovescia la dialettica e la trasforma in ideologia. E leggiamo quanto segue. La convinzione che sta alla base della sinistra hegeliana è che le vere catene degli uomini stiano nelle loro idee, per cui i giovani hegeliani coerentemente chiedono agli uomini, come postulato morale, di sostituire alla loro coscienza attuale la coscienza umana. Questa richiesta di modificare la coscienza conduce all'altra richiesta di interpretare diversamente ciò che esiste, ossia di riconoscerlo mediante una diversa interpretazione. Marx continua dicendo, nonostante le loro frasi che secondo loro scuoto nel mondo, gli ideologi giovani hegeliani sono i più conservatori di tutti, perché secondo Marx non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza. Ecco, questa è la critica che Marx muove ad Hegel. Lui dice ad Hegel e ai suoi allievi, questi giovani hegeliani. Cos'è che dice Marx? Dice attenzione perché, e questo è un errore che lui attribuisce un po' a tutta la filosofia. Tutta la filosofia ha una visione distorta, secondo Hegel, in cui si dice che per cambiare le cose del mondo devi cambiare te stesso, devi cambiare la tua volontà, il tuo animo, la tua interiorità, il tuo spirito. Animum non cellum debbes mutare, diceva Seneca, cioè è il mio animo che deve cambiare, non il cielo. Non posso cambiare il mondo se non cambio me stesso. Secondo Marx questa è una visione miope, distorta, perché come dice non è la coscienza che determina la vita, ma il contrario. Cioè non è la mia volontà, secondo Marx, a determinare le cose del mondo, ma il modo in cui le cose del mondo sono ordinate a determinare la mia coscienza. Le mie idee non sono il motore della realtà, la realtà è motore delle mie idee. In questo rovesciamento, rovesciamento che secondo lui Hegel ha portato all'estremo, di nuovo rovesciamento che vede in tutti i pensatori, anche in Spinoza, fare una critica simile. Ma in Hegel trova il suo trionfo e Marx dice no, qui non ci hanno capito niente. In realtà sono le condizioni materiali a determinare il mio modo di pensare e quindi non posso pensare di cambiare il mio modo di pensare per cambiare il mondo, perché non sto facendo nulla. Cosa accade quindi? Divento un conservatore. Lui accusa i giovani hegeliani, anche quelli rivoluzionari, critici della società, dice siete dei conservatori, perché state mirando al bersaglio sbagliato. Marx si convince in questo modo che tutta la storia della filosofia è storia di ideologia, ovvero è la storia di affermazione e legittimazione del sistema che sostiene certe idee. Quando il filosofo dice, secondo Marx, devi cambiare il tuo animo per cambiare il mondo, secondo Marx questa cosa produce inazione, produce teoria e non prassi, e quindi tu stai semplicemente giustificando quello che già c'è e bisogna rovesciare le cose. È un'affermazione del pensiero che giustifica le condizioni esistenti e Marx invece si guarda intorno e dice le condizioni esistenti fanno schifo, bisogna cambiarle. E come si fa? Trasformando la filosofia. La filosofia deve diventare pratica di liberazione. Ecco, qui troviamo il primo punto veramente interessante di Marx. Molto spesso nella storia sentiamo i filosofi dire che la filosofia deve diventare pratica di liberazione, di illuminazione, di soppressione delle catene e via dicendo, emancipazione. però molto spesso, quando i filosofi lo dicono, sparano quelle che sembrano supercazzole. Ecco, Marx sicuramente supercazzole in queste non ne fa, perché è molto molto chiara e concreta la sua visione. Rovesciando il rapporto fra idee e mondo, fra individui e collettività, poi lo vedremo, lui dà una strada molto concreta e ha un metodo per indicare quella strada e la sua chiarezza, credo, sia uno dei motivi per cui Marx ha avuto così tanta fortuna nel mondo, e scrive, la liberazione è un atto storico, non un atto ideale, ed è attuato da condizioni storiche, dallo stato dell'industria, del commercio, dell'agricoltura. Quindi, se tutta la filosofia è separazione di teoria e pratica, Hegel cerca di riunirle. Infatti, lui è il filosofo che fa della prassi l'unica vera teoria. Tutto questo porta il giovane Marx a un'idea. È l'economia che sta alla base delle idee. Perché Marx ha una formazione economica, legge Riccardo, legge Adam Smith, legge i grandi economisti classici e deve molto a loro. Perché lui comprende, più di qualsiasi altro suo contemporaneo, l'importanza e la centralità dell'economia, ovvero del mondo degli scambi fra esseri umani. Perché che cos'è l'economia? L'economia è l'insieme degli scambi fra esseri umani, i rapporti di scambio fra gli esseri umani. Questo lo dicono Riccardo, Adam Smith, tutti quanti. Insomma, l'economia nasce a fine Settecento, grazie a questo tipo di visione, una visione che comincia a guardare più alle relazioni fra le persone, che non alla trascendenza dell'anima. E Marx deve molto a questi pensatori, solo che anche loro, secondo Marx, vivono quello stesso rovesciamento. E questo rovesciamento viene descritto perfettamente da Lenin. Lenin, parlando della visione dell'economia di Marx, dice Adam Smith e David Riccardo gettarono le basi della teoria secondo cui il valore deriva dal lavoro. Marx continuò la loro opera, dette una rigorosa base scientifica, e sviluppò in modo coerente questa teoria. Egli dimostrò che il valore di ogni merce è determinato dalla quantità di lavoro socialmente necessario, ovvero dal tempo di lavoro socialmente necessario alla sua produzione. Ma, continua Lenin, là dove gli economisti borghesi vedevano dei rapporti tra oggetti, scambio di una merce con un'altra, Marx scoprì dei rapporti tra uomini. Ed ecco qual è il passo in più che Marx fa rispetto ad Adam Smith. Riccardo vede l'economia come una scienza umana per eccellenza, perché l'economia è la scienza che mostra come funzionano i rapporti tra uomini attraverso le merci. E come vedremo il concetto di merce è abbastanza importante e molto molto stratificato. E Marx, rinfocolando questa idea, scrive, l'economia politica parte dal fatto della proprietà privata. Non ce la spiega. Essa esprime il processo materiale della proprietà privata, il processo da questa compiuto in realtà, in formule generali astratte, che poi essa fa valere come leggi. Essa non comprende queste leggi, cioè non mostra come esse risultino dall'essenza della proprietà privata. Per l'economia politica vale come ultima ragione, l'interesse del capitalista, cioè suppone ciò che deve spiegare. Ecco e qui si mostra perché Marx vede nell'economia questa materia così importante, ma gli economisti come rovesciatori dei rapporti. Perché quello di cui è convinto è che l'economia intesa da David Riccardo, Adam Smith, presuppone la proprietà privata. Ma non la spiega mai. Secondo Marx, l'economia dovrebbe spiegare i presupposti logici, esistenziali, economici della proprietà privata, ma non lo fa. La dà per scontata. In questo modo crea tutta una serie di fraintendimenti perché prende qualcosa che dovrebbe dimostrare come presupposto e non lo spiega mai. Questo diventerà utile poi quando andremo a parlare della critica della proprietà privata. E attenzione, io qui voglio spettare una lancia in favore di Marx. Perché Marx la vede così? Per due motivi. In primo luogo perché è vero che la proprietà privata non viene mai spiegata. Prendiamo John Locke. Com'è John Locke che spiega la proprietà privata? È con la metafisica. Locke è empirista, lo sappiamo, insomma anche lì c'è la monografica, recuperatela, poi un giorno la rifarò anche un po' più corposa quella su Locke. Però effettivamente se noi andiamo a vedere come Locke spiega la proprietà privata e cerca di fondarla, beh il fondamento è a che fare con il sacro, a che fare con la religione, a che fare con l'individualità, con l'anima, con l'unicità dell'anima. La proprietà privata è qualcosa che trae valore dal fatto che io sono. Allora cosa che fa Locke dal punto di vista marxiano? Rovescia i rapporti. Mette alla base qualcosa di metafisico, trascendentale, spirituale, per fondare qualcosa che in realtà è presupposto ma non spiegato. Marx, che parte del presupposto contrario, cioè che tutto quanto ha a che fare con i rapporti fra persone ed è tutto molto materiale, e questa cosa non l'accetta, cioè non accetta che la spiegazione della proprietà privata sia metafisica, quasi religiosa. Dagli torto, cioè nel senso, attenzione, nella visione di Marx, Marx ha perfettamente ragione, il problema è di presupposto. Se tu presupponi che nulla possa essere spiegato al di fuori dei rapporti di forza economici, la spiegazione della proprietà privata di Locke non sta in piedi, è soltanto una supercazzola metafisica. Se invece, come vedremo, il presupposto è che non tutto ciò che è umano possa essere spiegato solo con i rapporti materiali di forza, allora forse la proprietà privata in Locke è spiegata. E qui c'è la grande divisione su cui è molto difficile trovare un punto di incontro, perché è veramente una spaccatura antropologica. Infatti, in tutto questo non possiamo non vedere la proposta di una diversa visione antropologica di Marx rispetto a Locke, a Kant, a Spinoza, Leibniz e tutti quanti. È diverso il modo con cui Marx intende l'essere umano. È questa la cosa che rende la filosofia di Marx così affascinante e così divisiva, perché Marx ci mostra un uomo diverso, un essere umano diverso. In primo luogo, l'essere umano è il prodotto delle condizioni della sua epoca. È il prodotto psicologico, filosofico, antropologico, religioso, comportamentale, delle condizioni in cui la sua epoca si trova. Quindi, alla base di come io sono, c'è il rapporto economico con gli altri, il sistema economico, il sistema di scambi, i rapporti di forza, e io emergo come risultato di tutto questo. Ciò è la miccia che porta il marxismo a fondare la sociologia. Il metodo marxiano fonda la sociologia contemporanea, poi avremo modo anche di vederlo in un altro paio di casi, però la sociologia è intesa come studio degli esseri umani in base alle condizioni esistenti di vita, perché questa è la sociologia, detta in soldoni, nasce proprio lì, nasce come approccio lì. Certo, poi tanti altri pensatori, possiamo citarli, ci sono pensatori illuministi che già vedono questa cosa, ma altus è... però Marx è quello che riesce a formalizzarlo in modo più efficace. La sociologia contemporanea deve quasi tutto a Marx. Quindi l'uomo è il prodotto delle condizioni della sua epoca. Primo cambiamento antropologico. Secondo, le sue idee non cambiano le condizioni di esistenza, né producono le realtà circostante, anzi, ne sono il prodotto. Il motivo per cui io vedo il mondo in un certo modo, il motivo per cui penso alle cose in un certo modo, il motivo per cui ho delle concezioni, convinzioni religiose, politiche, metafisiche, filosofiche, è il risultato sempre di quei rapporti di forza economici fra merci e uomini. E terzo aspetto, la felicità o l'infellicità dell'essere umano non dipendono dalla sua volontà, dal suo animo, dalla sua elezione divina, ma dalle condizioni socio-economiche. Questo fonda un'immagine dell'essere umano diversa da quella che c'era in precedenza. Senza capire questa diversa visione dell'essere umano, è veramente complicato dare una collocazione a Karl Marx. Ed è in tutto questo, in tutto questo cambiamento antropologico, che si inserisce quella che è la visione che Marx ha della religione. Allora, anche qua, attenzione, le caricature sono molto facili. Perché? Perché quando si cita quella frase, la religione è l'oppio dei popoli, sembra che Marx stia dicendo che la religione droga le persone, che la religione è un inganno. Attenzione, la critica di Marx alla religione non è la critica che fa Feuerbach alla religione. Cioè, in un certo modo sì, perché Marx riconosce a Feuerbach l'idea che non sia Dio ad aver creato gli uomini, ma gli uomini ad aver creato Dio. E infatti Feuerbach fa questo ragionamento e dice, cioè nel senso, la religione è prodotta dagli uomini, le divinità sono il prodotto degli uomini. Però Marx dice, Feuerbach ha la colpa di essersi fermato lì. L'unica cosa che Feuerbach dice, che io ho trovato sempre molto geniale, soprattutto nella sua epoca, è se io voglio capire chi sono, devo capire come immagino la divinità. Ed è vero, io sono d'accordo su questo. Marx fa un passo in più, dice, attenzione, ciò che Feuerbach non fa è chiedersi perché l'uomo inventa la religione. Perché la crea la religione? Qual è lo scopo? Ora, cosa dice? Beh, c'è la frase molto famosa, ve la cito, ok, di Marx, dice, l'uomo è il mondo dell'uomo, lo Stato, la società. Questo Stato, questa società producono la religione, che è una coscienza rovesciata del mondo, perché anch'essi sono un mondo rovesciato. La religione è la teoria rovesciata di questo mondo. E diventa evidente che la lotta contro la religione è la lotta contro quel mondo di cui la religione è l'arma spirituale. La miseria religiosa è in un senso l'espressione della miseria reale e in un altro senso la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di situazioni in cui lo spirito è assente. Essa è l'oppio del popolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la religione non è il male, la religione è il prodotto di quello che Marx considera il male, cioè la società rovesciata, il mondo rovesciato, il mondo che convince gli esseri umani che in realtà per essere felici bisogna lavorare sul proprio animo, sulla propria interiorità. E se noi eliminiamo, se noi torniamo ad avere un mondo dritto, sparirà anche la religione. La religione è un sintomo, perciò è l'oppio del popolo, perché è esattamente come la droga, l'oppio, ciò che la coscienza miserabile ricerca per poter sopportare la sua condizione. Posso dire che questa è un'idea molto lungimirante, soprattutto per l'immagine che Marx ci dà dell'oppiomane. In un'epoca, la nostra, in cui il drogato è ancora visto come qualcuno di malvagio, cattiva è, Marx ci dice guarda che l'oppiomane è una persona che sta soffrendo. E in questo non posso non dire che Marx fosse molto molto avanti. Però poi torniamo alla visione della religione. Quando leggiamo queste parole può sorgere il primo dubbio. Siamo sicuri che la religione sia spiegabile solo così. Sapete anche qua, in base al modello antropologico che adottiamo, possiamo decidere dall'una o dall'altra parte. Da un lato abbiamo Marx che dice tutto ciò che è spirituale è secondario perché ciò che sta alla base è economico, sociale, di relazioni. Se io metto a posto l'economico sparisce la religione come se fosse il sintomo di una malattia. Dall'altra parte c'è Max Weber per esempio. Max Weber di cui c'è la monografia, ormai l'ho fatta di quasi tutti la monografia, ha una visione antropologica diversa. Max Weber che è perfettamente consapevole dell'importanza dei rapporti economici. Però non pone una struttura definitiva come quella di Marx. Marx dice proprio alla base di tutto c'è l'economia. Weber invece ha una visione più elastica in cui ti dice guarda che la religione non esiste come sintomo e basta. La religione è dovuta al fatto che l'essere umano ha dentro di sé degli elementi di interiorità che sono tanto concreti quanto l'economia. Mi piace molto Weber perché è veramente a metà strada fra la visione di Locke, dell'individualità di Locke e la visione invece di Marx così materialista e convintamente antispirituale. Weber a metà strada e Weber dice certo che l'economia influenza in modo determinante l'individuo. Ma ricordiamoci anche che nell'individuo e nella sua vita interiore ci sono movimenti che possono modificare il sistema economico. E quindi qual è la visione antropologica che adottiamo? Quella è una domanda che ognuno deve farsi per capire quale direzione prendere. Marx ha una visione di questo tipo. Weber un'altra. Da quale parte stiamo? Lo deciderà la nostra coscienza. La medesima critica che Marx fa però alla religione viene fatta a tutto quanto, alla filosofia, all'economia. Ho letto già insomma la parte in cui Marx critica gli economisti classici dicendo per l'economia politica vale come ultima ragione l'interesse del capitalista, ciò suppone ciò che deve spiegare. Cioè quel rovesciamento in realtà c'è in tutto, nella filosofia. Marx ogni filosofo lo critica sulla base di quel rovesciamento. E quindi c'è questa critica al cielo. Ok, lui Marx la chiama proprio critica al cielo e la critica al cielo, la critica alla religione, a questa spiritualità, a questo oppio dei popoli, si trasforma poi nella critica alla terra. L'idea che Marx ha del lavoro, dei rapporti di produzione capitalistici, l'idea della merce che porta avanti, è legata a doppio filo a quella critica del rovesciamento del mondo. L'idea di alienazione è proprio lì. Perché critica del cielo diventa critica della terra. Il lavoro, secondo Marx, aliena l'uomo e lo trasforma in una creatura miserabile. Le condizioni malvagie che Marx denuncia, di cui la religione è un sintomo, sono le condizioni di lavoro in cui l'essere umano versa nella sua epoca. Leggiamo quello che scrive lui direttamente nel Capitale, troviamo queste parole. Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore. L'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera, ma ciò che fin da principio distingue il peggior architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un cambiamento di forma dell'elemento naturale, qui egli realizza il suo scopo, che egli conosce, che determina come legge il modo del suo operare. Il lavoro, ci dice Marx, è ciò che rende l'uomo uomo. Ma il lavoro inteso nel senso in cui qui viene espresso, cioè l'idea di progettare e di mettere in forma materiale. L'idea di realizzare ciò che prima è soltanto nell'idea, il progetto. È il motivo per cui Sartre poi nel novecento si definirà sempre marxista, anche quando romperà con il partito comunista francese, quando diventare a critico. Perché anche nell'esistenzialismo c'è questa idea che deve molto a Marx, secondo cui ciò che contraddistingue l'essere umano è la capacità di progettare qualcosa che poi va a forgiare nella realtà. L'essenza, poi gli esistenzialisti la tradurranno con l'essenza, l'esistenza viene prima dell'essenza. E quindi a differenza dell'ape che può soltanto seguire una programmazione, in Marx il lavoro è quella dimensione in cui io vado a ideare una forma nella mia mente e poi la porto nella realtà con il lavoro delle mie mani. Questo è ciò che ci differenzia dagli animali. Il lavoro, in quanto elemento proprio dell'umano, produce l'individuo, cioè il lavoro è antropogeno. Non è l'essere umano che inventa il lavoro, è l'atto del lavoro che produce l'essere umano. Ora, piccola parentesi, capite bene che questa è una concezione in cui tu vuoi mettere fuori la metafisica dalla porta ti rientra dalla finestra, tu vuoi buttare fuori Hegel dalla porta ti rientra dalla finestra, però poi ci ritorneremo su questa critica. Il punto essenziale è questo, il lavoro è quell'atto che produce l'essere umano. Un lavoro che sottrae il prodotto e il suo frutto e la realizzazione al lavoratore finisce per alienare il lavoratore e nel lavoro alienato che Marx vede nella società industriale del suo tempo accadono alcune cose che sono il fatto che il lavoro si trasforma per l'operaio in pura sussistenza, cioè l'operaio lavora non più per realizzare se stesso ma per continuare a esistere in condizioni peraltro miserevoli, depresse e via dicendo. C'è la conseguenza nel lavoro alienato secondo cui la proprietà privata, che come dicevamo prima è pura ideologia secondo Marx, porta inevitabilmente alla divisione del lavoro e la divisione del lavoro come vedremo poi è un concetto contro cui Marx si scaglia molto e se io ho la divisione del lavoro ancora di più sottraggo il frutto del lavoro all'operaio che diventa all'operaio della fabbrica della catena di montaggio quindi che produce sempre lo stesso pezzo di cui magari poi non sa neanche lo scopo. C'è ovviamente la citazione fatta da Charlie Chaplin in tempi moderni in cui l'operaio è alienato perché all'interno di un ingranaggio ma non sa neanche come ciò che produce va a connettersi al mondo al di fuori e quindi viene completamente sottratto al prodotto del suo lavoro e questo lo aliena. Ovviamente un'altra cosa sottratta sono i mezzi di produzione. Nella fabbrica i mezzi di produzione macchinari sono del capitalista e quindi l'operaio non ha neanche la proprietà dei mezzi di produzione, non ha neanche la possibilità di trarre da quei mezzi il frutto del suo lavoro e tutto questo comporta il fatto che il lavoratore in questo ambito è mutilato della sua creatività e quindi della sua umanità e quindi leggiamo due cose di Marx e poi commentiamo un po' e vado a leggere qualche domanda. Scrive Marx l'alienazione del lavoro consiste prima di tutto nel fatto che il lavoro è esterno all'operaio, cioè non appartiene al suo essere e quindi nel suo lavoro egli non si afferma ma si nega, si sente non soddisfatto ma infelice, non sviluppa una libera energia fisica e spirituale ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo spirito. Perciò l'operaio solo fuori del lavoro si sente presso di sé e si sente fuori di sé nel lavoro, è a casa propria se non lavora e se lavora non è a casa propria. Il suo lavoro quindi non è volontario ma costretto, è un lavoro forzato. Non è quindi il soddisfacimento di un bisogno ma soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei. Nella parte in cui il lavoratore è presso casa sua quando non lavora e lavora e quando lavora non è a casa sua, forse Marx l'avrebbe rivisto ai tempi dello smart working ma questo è un altro lavoro. E poi continua e dice l'alienazione dell'operaio nel suo prodotto significa non solo che il suo lavoro diventa un oggetto, qualcosa che esiste all'esterno ma che esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo e diventa di fronte a lui una potenza per sé stante. Significa che la vita che egli ha dato all'oggetto gli si contrappone ostile ed estranea. E questa cosa si esprime nel fatto che quanto più l'operaio produce tanto meno ha da consumare. Quanto maggior valore produce tanto minor valore e minore dignità egli possiede. Quanto più bello è il suo prodotto tanto più l'operaio diventa deforme. Quanto più raffinato il suo oggetto tanto più egli si imbarbarisce. Quanto più potente il lavoro tanto più egli diventa impotente. Quanto più il lavoro è spirituale tanto più egli è diventato materiale e schiavo della natura. Ora sono pagine anche molto poetiche da un certo punto di vista che hanno anche una valenza letteraria importante. Sicuramente le condizioni che Marx vedeva nella sua epoca erano molto molto drasticamente peggiori rispetto a quelle che potremmo anche solo immaginare oggigiorno. E quindi questi toni quasi apocalittici li possiamo capire. Qui in queste tre parti che vi ho letto si trova proprio il concetto di alienazione del lavoratore. I motivi per cui Marx vede nel lavoro salariato l'alienazione. E poi nel proseguo della live torneremo a incontrare questi concetti e magari ci ragioneremo anche in modo un po' più critico. Adesso direi che è giunto il momento di leggere qualche domanda in chat visto che vedo un bel po' di gente con noi. Allora, allora, prendo le domande. Intanto grazie a Lupo Salvadore, grazie a Daniele Giovanardi, Luca Leoni per gli abbonamenti, grazie a Michelangelo Bertasi. Siete in tantissimi, grazie mille per gli abbonamenti. Continuiamo così? Dai, su! Allora, vediamo un po'. Quanto Marx ha influenzato in Novecento in positivo e in negativo? Ma io credo che, allora, se prendiamo la filosofia, Marx ha avuto un'influenza straordinaria. Come dicevo, nessuno ha potuto esimersi dal confrontarsi con Marx nel Novecento e anche nell'Ottocento e ha avuto un'influenza molto positiva. Perché in filosofia, ovviamente, qualsiasi visione che comporta una trasformazione nelle prospettive con cui interpretiamo il mondo è assolutamente un arricchimento. Dall'altra parte, nelle conseguenze materiali del Novecento sono state tantissime anch'esse e ha fatto grandi danni. Peraltro, vedete, su questo c'è una piccola cosa che voglio spendere come ragionamento. Molto spesso, quando si criticano le derive totalitarie, terribili, che il marxismo ha avuto nel corso della storia, sapete, insomma, nel Novecento, io ho fatto anche un video in cui spiego perché quello che si è delineato nelle dittature del Novecento era vero marxismo. Un video che ha fatto molto discutere ancora oggi, crea dei commenti molto aspri, però bene così, vuol dire che ho fatto dibattito. Per me quello lì era vero marxismo e molto spesso l'obbiazione che si fa è però Ric, ricordati anche che il marxismo ha prodotto il miglioramento dei diritti dei lavoratori, ha prodotto maggiori diritti per le donne e via dicendo. E allora, quello che dico io è, se vogliamo fare i marxisti, facciamo fino in fondo i marxisti. Se è vera la visione di Marx, secondo cui solo le condizioni economiche e materiali producono cambiamenti nella visione delle persone, ricordiamoci che se abbiamo acquisito diritti per i lavoratori, per le donne e via dicendo, è perché tra l'Ottocento e il Novecento sono a dismisura migliorate le condizioni materiali e le condizioni materiali sono migliorate grazie alla rivoluzione industriale. Quindi, non possiamo fare i marxisti quando ci pare e dire, è perché il pensiero non produce cambiamenti nella realtà, e poi quando vogliamo difendere il marxismo dire, è ma il marxismo, una teoria, ha prodotto miglioramenti per i lavoratori e per... no, facciamo i materialisti fino in fondo. Sono le condizioni del lavoro che hanno permesso un miglioramento nelle condizioni dei lavoratori, delle donne, nei diritti, nelle minoranze e via dicendo. Perché altrimenti facciamo i materialisti storici soltanto quando ci pare. Quindi, ora, visto che io non sono un materialista storico, sono convinto che il marxismo come teoria abbia prodotto delle ottime cose. Credo che Gramsci, Togliatti, che tanti abbiano permesso il raggiungimento anche di alcune conquiste sociali. Quindi io lo dico, ma questo è proprio perché Marx non aveva ragione del tutto nella sua visione così economicista della realtà. Ok, questo. Come siamo passati da Marx a Orsini? Com'è che il pensiero occidentale è così regredito? Ma Michelangelo, il pensiero occidentale non è regredito. Anche al tempo di Marx c'erano i coglioni, quindi non è regredito. È che noi, cioè, fra 200 anni nessuno si ricorderà di Orsini. Qualcuno si ricorderà di pensatori attuali del calibro di Marx. Non siamo regrediti. C'è più rumore, forse. E questo è dovuto, di nuovo, a condizioni materiali e tecnologiche. Vediamo un po'. Prendo anche qualche altra domanda. Mr. Anonymous chiede, Rick, Marx quindi prende direttamente l'idea di disuguaglianza attraverso la proprietà privata da Rousseau, che definisce essa come l'origine di disuguaglianza? No, in realtà ha un'analisi molto diversa quella di Marx rispetto a quella di Rousseau. L'analisi di Rousseau è un'analisi, anch'essa, è molto simile a quella di Locke. Quindi è un'analisi che parte da una idealizzazione dell'uomo. Infatti il mito del buon selvaggio. In Marx non c'è nessun mito. Ecco, anche questo è, secondo me, un bel vantaggio di Marx rispetto a Hobbes, Rousseau, Voltaire. Il fatto che Marx non fa esperimenti mentali come quello dello stato di natura, del buon selvaggio. Ovviamente è un approccio che ha dei limiti, però almeno ci toglie di dosso tutta quella parte che, sapete, insomma, crea un po' di confusione. Però sono due visioni abbastanza diverse, quelle sulla proprietà privata da Marx a Rousseau. E anche se entrambi criticano la proprietà privata come concetto, però lo criticano da punti di vista molto, molto diversi. Riccardo chiede, quindi ogni evento storico può essere ricondotto delle condizioni materiali della società? Perfino le crociate, la guerra dei trent'anni, il conflitto nord-irlandese? Sì, sì, esatto. Cioè, dal punto di vista del materialismo storico, sì, la risposta è sì. Marco dice, riguardo all'oppio, non mi ricordo dove ho letto che al tempo di Marx l'oppio non era visto come una vera e propria droga, quanto proprio come drug, cioè farmaco, però religione, come medicina. Cioè, nel senso, sicuramente c'era una visione di quel tipo, però era comunque una piaga sociale, quindi no. Cioè, solo fino a un certo punto quello che dice è giusto. Domanda di Francesco che chiede, ma se il lavoro esiste a prescindere dall'essere umano? Chi ha creato il lavoro? L'essere umano è solo oggetto su cui agisce il lavoro, quindi cosa porta il lavoro ad essere tale? Il lavoro è la capacità di manipolare la natura. Per quello, dicevo, la metafisica rientra dalla finestra. È come se il lavoro fosse una qualità trascendentale che attraversa l'essere umano. Sai, se stiamo qua a chiederci se sia l'uomo ad aver inventato il lavoro, o il lavoro ad aver inventato l'uomo, è un po' come il dilemma dell'uovo della gallina. La visione di Marx è molto, molto chiara. È il lavoro ad essere antropogeno, non è l'uomo ad aver prodotto il lavoro. Io su questo sinceramente non riesco ad esprimermi, perché mi sembra di tornare di nuovo in un ambito metafisico. Roger dice, sono assolutamente convinto della buona fede di Marx, ma purtroppo le sue teorie hanno provocato danni ovunque abbiano raggiunto il potere. Sono d'accordo. Ultima di Giovanni che chiede, sono affascinato dalla figura di Buddha. La metteresti vicino a Marx? No. So che in alcune scuole buddiste Marx c'entra di prepotenza anche nella strada dell'illuminazione collettiva. Assolutamente no nel modo più assoluto. Partiamo dal presupposto che nella storia del pensiero occidentale Buddha è stato infilato ovunque, dappertutto. soprattutto dovuto alla scarsa conoscenza dei testi originali. Ragazzi, c'è tanta di quella fuffa in occidente su Buddha, l'induismo e via dicendo, dovuto al fatto che non si leggono i testi in originale, quindi non si capisce. Perciò la distorsione di Buddha è stata fatta in ogni modo. Io ho letto testi in cui Nietzsche viene associato al Buddha, nonostante Nietzsche sia un odiatore del buddismo. Lo stesso Schopenhauer quando parla di Buddha e di linguismo e via dicendo dice delle fregnacce occidentali senza molti legami con i testi originali. Quindi Marx e Buddha proprio no, sai. Anche perché di solito quando c'è questo accostamento è legato al fatto che c'è questa percezione, che Marx è un buono. Visto che Buddha è buono, allora Marx e Buddha hanno qualcosa che vede agli uni con gli altri. Ed è una stronzata talmente enorme che mi sento anche non necessitato di commentarlo ulteriormente. E direi che ci siamo e possiamo passare alla seconda parte, secondo capitolo della nostra monografia. Dal titolo la storia si fa quasi da sé. La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza è in primo luogo direttamente intrecciata all'attività materiale e alle relazioni materiali degli uomini, linguaggio della vita reale. Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uomini, appena qui ancora come emanazione diretta del loro comportamento materiale. Ciò vale allo stesso modo per la produzione spirituale, quale essa si manifesta nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della religione, eccetera, di un popolo. In questo passaggio si vede piuttosto bene qual è il passaggio che porta Marx dal concetto di alienazione sul lavoro dell'essere umano al concetto di materialismo storico. L'individuo è il prodotto delle condizioni storiche. Perciò, leggiamo un'altra parte, nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati necessari indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Ecco, qui è espresso in modo perfetto perché, secondo Marx, l'essere umano è determinato dal suo lavoro, perché alla base di tutto c'è l'economia che poi produce come sovrastrutture la religione, la filosofia, la cultura, la politica, lo Stato, la legge e tutto quanto. Per via del materialismo storico, che è l'intuizione, credo, più originale, più influente di tutto il pensiero marxiano. Allora, il materialismo storico è l'idea che non sia la coscienza degli uomini a determinare il loro essere, ma al contrario il loro essere sociale determina la loro coscienza. Quindi le condizioni materiali, come diciamo prima, sono ciò che poi producono gli uomini, i loro pensieri, convinzioni e tutto quanto. Nel materialismo storico Marx ha dovuto individuare qual era il meccanismo basilare e lo individua nell'economia. La struttura base è quindi economica e tutte le altre, filosofia, psicologia, politica, legge, sono sovrastrutture. Una grande scossa della struttura economica comporta un cambiamento delle sovrastrutture per crollo o rimodulazione. Ora, questa secondo me è l'idea autenticamente rivoluzionare di Marx. L'idea che apre uno sguardo diverso sul mondo e sull'uomo. Dicevo prima, è una visione molto diversa rispetto a tanti altri filosofi. Prendete lo stoicismo con Seneca, il quale dice sempre, ammonisce, ricordati che devi cambiare te stesso per poter cambiare il mondo là fuori. Il mondo cambia quando tante persone cambiano il proprio atteggiamento, la propria visione, prospettiva, comportamento, il proprio animo. Marx rigetta questa idea. Dice che è un buco nell'acqua, è un modo per giustificare l'esistente. Nessuna realtà sarà mai cambiata perché uno o dieci milioni di persone cambiano la propria interiorità, perché è l'interiorità ad essere cambiata dalle condizioni esteriori. E questo va contro lo stoicismo, va contro l'idealismo, va contro tutta la storia della filosofia. A quel punto significa in Marx che ciò che gli uomini sono è frutto dei rapporti di produzione. E questo è il materialismo storico. L'uomo si differenzia dagli animali quando vede se stesso nelle sue creazioni. E le sue creazioni hanno l'obiettivo di soddisfare i suoi bisogni. Ora, accadono delle cose. L'uomo nasce nel lavoro, quindi facciamo una schematizzazione antropologica. L'uomo appare nella storia quando il lavoro lo genera. Il lavoro inteso come capacità di manipolare la natura, producendo con il proprio lavoro un oggetto che mi serve per soddisfare dei bisogni. Questa è la genesi dell'uomo nella visione marxiana. A un certo punto, grazie a questo lavoro, l'uomo migliora la sua vita. E quando lo fa, la società si allarga in famiglie, in comunità, in paesi, nazioni, stati. A quel punto i bisogni aumentano. Non hai più soltanto il bisogno di mangiare, dormire, bere, procreare. Hai anche il bisogno di difenderti, di coltivare, di conservare il cibo, hai una serie di bisogni. Fra qui nascono anche i bisogni spirituali. Quindi capite perché la struttura per Marx è economica, interscambi, soddisfano i bisogni, i bisogni crescono. Ecco sopra la struttura. La religione, la legge, l'ordine, la filosofia. A quel punto arriva, grazie a questo aumento dei bisogni, la divisione del lavoro. Perché? Perché a un certo punto i bisogni sono talmente tanti che io non posso soddisfarli tutti quanti e quindi comincerò a scambiare merci, tempo, lavoro, competenze con gli altri. E gli altri in cambio mi daranno il loro lavoro, competenze, ci dividiamo i lavori e nasce la comunità. E la comunità di nuovo ha bisogno delle leggi, dell'esercito, dei filosofi, tutte le sovrastrutture. E quindi la divisione del lavoro comporta anche la separazione fra lavoro e intelletto. Ci saranno delle persone che non dovranno lavorare per la loro sussistenza, come i capi, i sovrani, i sacerdoti e via dicendo. Di nuovo ricordatevi che il lavoro è una cosa molto materiale, cioè per Marx il lavoro dello youtuber non è mica un lavoro, sto scherzando, però per dire che il lavoro è produzione di qualcosa che soddisfa un bisogno. Questa separazione fra lavoro e intelletto produce il fraintendimento della filosofia che separa teoria e prassi e che Marx cerca di riunire con il suo materialismo storico e di nuovo la suddivisione del lavoro che è l'inizio di quella che poi sarà l'alienazione che arriverà fino alle fabbriche e alla rivoluzione industriale. Questa è una schematizzazione antropologica, peraltro una schematizzazione che ancora oggi vale per tantissimi pensatori. Quello che ho appena detto, per esempio, lo si ritrova in modo molto molto chiaro nei libri di Yuval Noah Harari, che è uno storico, è uno storico, un antropologo storico e che dal mio punto di vista ha proprio un approccio marxiano alla sua dottrina, al suo pensiero. Ma poi potrei citarne tanti altri. In realtà tutta l'antropologia storica e tutta la sociologia è ancora fortissimamente marxiana. Marvin Harris, Brian Bryson, sono tutti pensatori in cui io rivedo moltissimo questa schematizzazione. Ricordatevi, è una schematizzazione che parte da dei presupposti che prima ho espresso e che sono condivisibili o meno. Questo è molto importante. Ovviamente non posso fare una sociologia tenendo conto della spiritualità, dell'individualità. Quindi io capisco perché la sociologia deve avere l'approccio del materialismo storico. Poi ovviamente la sociologia, così come l'antropologia, da questo trae delle conseguenze che sono molto meno condivisibili. Ma come metodo di analisi non puoi farci nulla. Tutto questo, tutta questa visione rischierebbe di portare a un meccanicismo classico. E anche nelle parole che abbiamo letto, l'uomo è determinato, la sua volontà non conta, la struttura economica determina tutto quello che è, potrebbe portarci a un meccanicismo classico, che non avrebbe nulla di diverso da quelli dei Laplace e di tanti altri pensatori precedenti a Marx, in cui l'uomo è un sassolino che rotola giù per la montagna, che è determinato dagli spuntoni di roccia, che rimbalza qua e là, non ha controllo su di sé, e ha solo questa autocoscienza che in realtà però è un'illusione o è anch'essa il prodotto delle condizioni materiali. Non sarebbe nulla di straordinario. Ed ecco che invece Marx tira fuori l'altra idea molto interessante, siccome è molto meno interessante del materialismo storico, però molto interessante, che è il materialismo dialettico. Ed è di nuovo Lenin che ce lo spiega. Ho preso un appunto e ve lo leggo. Allora, scrive Lenin, Marx non si fermò al materialismo del secolo diciottesimo, ma spinse in avanti la filosofia. Egli la arricchì delle conquiste della filosofia classica tedesca, soprattutto del sistema di Hegel che a sua volta aveva condotto Feuerbach al materialismo. La principale di queste conquiste è la dialettica, cioè la dottrina dello sviluppo nella sua espressione più completa, più profonda e meno unilaterale. La dottrina della relatività delle conoscenze umane, riflesso della materia in perpetuo sviluppo. Questa è la dialettica, cioè l'idea che il materialismo non è meccanico, è dialettico, ovvero è un materialismo che deve tenere conto della relatività dialettica delle diverse discipline umane. Allora, com'è che lo esprime Marx nel Capitale? Dice questo. Per Hegel il processo del pensiero, che egli trasforma addirittura in soggetto indipendente con il nome dell'idea, è il demiurgo del reale, che costituisce a sua volta solo il fenomeno esterno dell'idea o processo del pensiero. Per me, viceversa, l'elemento ideale non è altro che l'elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini. La mistificazione alla quale soggiace la dialettica nelle mani di Hegel non toglie in nessun modo che egli sia stato il primo a esporre ampiamente e consapevolmente le forme generali della dialettica stessa. In lui, essa è però capovolta. Bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale entro il guscio mistico. Allora, questo è un concetto un po' più complicato da esprimere. Che cos'è il materialismo dialettico? È l'idea che sì, tutto ciò che siamo come individui, società e via dicendo, è il prodotto di condizioni materiali, ma non nel senso con cui lo diremmo di un sasso che cade dalla scarpata. Le condizioni materiali, infatti, sono tutte legate a doppio filo a quelle che sono discipline umane come gli scambi di merci, quindi l'economia e tutte le sovrastrutture. Ed è in quell'ambito che il materialismo si sviluppa. Cioè non c'è un predeterminismo nella storia, così come concepita da Marx. Le cose sarebbero potute andare anche in un altro modo, ma non per la volontà degli uomini, ma per le diverse condizioni possibili. In quanto c'è il materialismo dialettico, cioè nell'incontro-scontro fra le diverse determinazioni del mondo, le cose sono sempre relative e io solo ex post posso capire come si sono determinate. È per questo che io nel pensiero marxiano vedo poi un'enorme contraddizione fra quella che è l'analisi del materialismo storico e dialettico, che tiene conto della relatività, e quella che poi è la profezia che Marx fa nel manifesto del partito comunista. Profezia, infatti, sbagliata, rivelata si fallace, che si rivelerà sempre fallace, perché parte da un'idea limitata dell'essere umano. Cioè, se tu mi dici come sono d'accordo che sia, ci sono condizioni materiali di vita, che tu puoi capire anche mettendo in una teoria, solo ex post, quindi dopo che si sono sviluppate, non vedo come poi Marx possa fare la profezia che poi vedremo del è inevitabile per il capitalismo fallire e trasformarsi nel comunismo e via dicendo. Però al netto di questo, la visione della dialettica, del materialismo dialettico, è molto interessante e l'obiettivo di Marx in questo senso è quello di produrre una scienza della storia, che è un obiettivo abbastanza ambizioso, e scrive Marx, quando si studiano le grandi crisi della storia è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un uomo dall'idea che egli ha di se stesso? Così non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento della coscienza che essa ha di se stessa. Occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente tra le forze produttive e società e i rapporti produzione, che è appunto la lettura con cui ho cominciato la monografica, però qui prende un connotato ancora più potente e diverso. Ovviamente prende anche un connotato, scusatemi, un po' paraculo, perché qui con il maternismo dialettico Marx mi sta dicendo che le condizioni economiche, la struttura è ciò che determina i cambiamenti, quindi determina anche la filosofia, la psicologia, ma poi mi dice che la filosofia, la psicologia, la cultura e la politica possono servire per comprendere e combattere quei cambiamenti. Ovviamente non possiamo pretendere da nessun filosofo, preteniamo la perfezione e la coerenza determinante, però è inevitabile qua prendere un po' di confusione e chiedersi ma quindi la filosofia insieme alla politica può cambiare le condizioni economiche, perché qui rimane il dubbio, però questo forse è una cosa che metteremo alla fine. L'essenziale è questa idea della storia come scienza, ricondurre grandi idee, religioni, dottrine politiche alle condizioni materiali ed economiche. Questo è quello che fa Marx, ovvero rimettere in piedi la dialettica hegeliana che per lui è rovesciata ed è lì che si inserisce l'altro grande concetto del suo pensiero che è quello della lotta di classe. Perché Marx inserisce il concetto di lotta di classe? Per due motivi. Da un lato per via della dialettica, ovvero l'idea che la storia sia contraddizione, conflitto e quindi il concetto di lotta. Dall'altro il fatto che l'economia e i rapporti produttivi fra individui umani è la struttura dei sommovimenti sociali e quindi il concetto di classe. La storia è lotta di classe, è conflitto fra classi. Questo è il motivo per cui la lotta di classe è così intimamente connessa a quello che è poi la concezione politica e filosofica di Marx. E scrive Marx insieme ad Engels nel manifesto, La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotta di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto e condussero una lotta ininterrotta, ora latente, ora aperta. Lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta. Secondo Marx la borghesia, quella contro cui lui si scaglia, fu la contraddizione all'interno dei dominatori precedenti feudatari. Allo stesso modo il proletariato è la contraddizione in seno alla borghesia. Secondo Marx la borghesia per esistere alimenta la classe del proletariato ed è destinata a venire soppiantata da essa. In questo si vede l'influenza enorme di Hegel, la dialettica schiamo padrone. In questo aspetto io credo che Marx dimostri tutta la sua affiliazione all'hegelismo, ovviamente affiliazione con tutte le differenze del mondo, ma è proprio un pensiero hegeliano questo. il proletariato confligge con la borghesia in quanto la borghesia, un po' come nella dialettica del negativo, produce le condizioni affinché il proletariato nasca e poi proliferi e poi lo rovesci. Mi verrebbe da dire a 200 anni di distanza non è accaduto, il proletariato si è imborghesito, andando a minare alla base una delle visioni basilari, una delle visioni fondamentali di Marx, però anche questo magari lo diciamo verso la fine. E adesso torniamo alla chat, mamma mia ragazzi è una live tosta questa, è tosta, però come vedete insomma c'è veramente tanta tanta roba. come sta andando? Allora io vedo 520 persone in live, non vedo, vedo che il counter degli abbonamenti è fermo ragazzi, mi dispiace un po' che voi non vogliate farci arrivare ai 2000 abbonamenti durante questa serata, anche perché mi sembra che sia una serata veramente interessante, quindi se c'è una serata in cui farci arrivare a quel traguardo credo potrebbe essere proprio questa. Allora, prendo qualche domanda, Riccardo dice tramite il pensiero di Marx ha anticipato il concetto della piramide di Glasgow, però come base il lavoro. Piramide di Glasgow io non la conosco, non so cosa sia, mi dispiace, conosco la piramide di Maslow se tu intendi e non ti direi, no, cioè sinceramente non si è di Maslow infatti, infatti, non direi, non direi, cioè sicuramente da alcuni marxisti la piramide di Maslow viene utilizzata per dare interpretazione dell'ambito del materialismo storico, però poi sono cose molto molto diverse. Francesco dice ma in tutto questo la domanda è che si dovrebbe fare per la sua rivoluzione? Iniziarlo o aspettare che inizi? Cosa dovrebbe essere a iniziare la sua rivoluzione? Un vaso di terracotta brutto? Vabbè, cioè, non, cioè nel senso capisco io però fossi in voi abbandonerei la vena polemica nei confronti di Marx, anch'io mi sto molto limitando, cioè la tua è una domanda che rischia di fare una caricatura. La rivoluzione va fatta per Marx, cioè va fatta materialmente e lui ha cercato di avviarla materialmente con l'internazionale comunista, l'internazionale dei lavoratori, quindi non posso dire che Marx non ci abbia provato a produrre le condizioni. Quindi vi sconsiglio di fare durante queste monografie e se siete in disaccordo con i pensatori facili ironie, perché appunto sono facili. Grazie Alberto Zanaboni che ha regalato 5 abbonamenti, grazie, grazie mille, grazie mille. Molto bene, grazie. Allora, ottima puntata, non riesco spesso a seguire il live. Grazie Alberto, grazie mille, veramente, sono contento di sia piacendo. Potrebbe essere, come dice Barbero, la lotta di classe c'è stata e è stata persa? Ma, allora, sicuramente in alcune zone del mondo c'è stata la lotta di classe. Cioè, allora, capiamoci. Barbero, che è un pensatore molto borghese, mi perdonerà il professore, ma è così, forse vede la lotta di classe come lo scontro nei parlamenti fra forze liberali e forze comuniste. Mi spiace, in Marx non è così. La lotta di classe è una cosa molto materiale che appunto non si fa nel lagone politico, perché come dice poi, e lo leggeremo, la classe operaia non deve avere ideali. Cioè, Marx lo dice chiaramente. Non sono gli ideali. Quindi, di nuovo, quando si spaccia per lotta di classe l'acquisizione di diritti per le donne, per i lavoratori, attraverso il Parlamento e via dicendo, si sta proprio fraintendendo enormemente Marx. La lotta di classe è una lotta con la L maiuscola. Ricordiamocela questa cosa. La lotta di classe non si fa con i sit-in di Battista. Scusatemi, non potevo esimermi da questo. E quindi no, in Italia la lotta di classe non c'è stata. C'è stato il terrorismo rosso degli anni settanta. Rosso e nero. E lotta di classe quella? No, era terrorismo. Poteva sfociare in lotta di classe? Certo. Perché è chiaro che la lotta di classe può nascere attraverso anche atti di violenza. E laddove è successo, ed è successo nel mondo, non mi sembra che la lotta di classe poi abbia portato a dei grandi sconvolgimenti positivi della società. Ecco, quello posso dirlo tranquillamente. Affermare, dice Bin Salman, affermare che la lotta di classe sia l'unico motore della storia non è abbastanza ridicolo? No, non è la lotta di classe ad essere l'unico motore della storia. È il materialismo ad essere l'unico motore della storia. Cioè sono i conflitti, non solo fra classi, fra tante cose. Quindi non è soltanto... La lotta di classe è, nell'ambito umano, il modo con cui il materialismo dialettico si manifesta. Quindi, Rick, l'unica lotta di classe nella storia è ottobre russo. Non lo so, c'è anche Cuba, c'è stata la rivoluzione cinese, no? Non sono d'accordo. C'è stata una lotta di classe in tante altre zone del mondo. Quindi no, non c'è stato soltanto l'ottobre rosso. Grazie, Francesco. Abbonato da due mesi, grazie mille. Però questo forse è un discorso che esula un po' dall'argomento della live, quindi eviterei. Erogia dice, perché Marx non ha affiancato alle sue teorie anche una solida teoria dello Stato? Forse come gli anarchici si illudeva che l'uomo fosse buono. Quella, cosa vuoi, è una grande obiezione che si può fare a Marx? Perché è l'unico grande filosofo politico della storia che però non ha scritto un libro con una seria teoria dello Stato, cioè come doveva funzionare. Questo, secondo me, è dovuto al fatto che lui, quando poi comincia a parlare dello Stato, della rivoluzione comunista, lui comincia veramente a fare profezie. Quindi perde il suo lato filosofico analitico e fa propaganda. Questo è, secondo me, la grande colpa di Marx. E purtroppo il marxismo si è trasformato in religione perché le persone, le menti semplici, hanno preferito prendere il manifesto dimenticandosi tutto il resto. Questo è, per me è proprio in dubbio, ed è la grande colpa di Marx. E quella non c'è nulla a fare. Per me è colpa di Marx, è il suo grande limite. Però poi, insomma, ognuno si fa le sue idee. Grazie mille per la risposta. Mi spingi sempre a pensare diversamente da me e allargare i miei orizzonti se capiti a Verona se famo una sniapa. Va bene, va bene. Grazie mille. Allora, io direi che possiamo passare, visto che si sta facendo tardino, al terzo capitolo, che è anche quello forse più piccantino, che è il capitolo su capitale e comunismo. Allora, fermi che devo prendere l'inizio di un libro, un libro famigerato, un libro tosto. Aspetta. Eccolo qua, perfetto. E quindi spero che siate pronti. Il capitale e il comunismo. Terzo capitolo della monografia su Marx. Uno spettro. Si aggira per l'Europa. Lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro. Papa e Zar, Metternich e Ghisot, radicali francesi e poliziotti tedeschi. Quale partito d'opposizione non è stato tacciato di comunismo dai suoi avversari di governo? Qual partito d'opposizione non ha rilanciato l'infamante accusa di comunismo tanto sugli uomini più progrediti dell'opposizione stessa quanto sui propri avversari reazionari? Da questo fatto scaturiscono due specie di conclusioni. Il comunismo è già riconosciuto come potenza da tutte le potenze europee. È ormai tempo che i comunisti espongano apertamente in faccia a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro fini, le loro tendenze e che contrappongano alla favola dello spettro del comunismo un manifesto del partito stesso. A questo scopo si sono riuniti a Londra comunisti delle nazioni più diverse e hanno redatto il seguente manifesto che viene pubblicato in inglese, francese, tedesco, italiano, fiammingo e danese. Questo è il famoso incipit del manifesto del partito comunista e però non iniziamo parlando di questo, iniziamo a parlare di un'altra opera importante, il capitale. Il capitale di Marx è l'opera più famosa ed è un'analisi economica e sociale con risvolti ovviamente filosofici di quello che è il sistema produttivo industriale della sua epoca, ma soprattutto è una fenomenologia della merce. Il termine merce in Marx è fondamentale e non solo, per tutta poi la storia dell'economia, merce diventa fondamentale. E che cos'è la merce? La merce è ciò che si scambia, la merce è ciò che fonda i rapporti economici. Quindi la merce è, potremmo dire, l'atomo del materialismo storico. È attraverso la circolazione della merce che tu puoi capire i rapporti fra gli uomini. Perché questo? Perché la merce ha alcune caratteristiche. In primo luogo, la merce ha un valore d'uso e quel valore d'uso è dato dalla sua qualità. Il caffè ha un valore d'uso. La qualità del caffè rende un caffè di valore e uno di un altro valore. Quindi il valore d'uso è la prima cosa della merce, la sua qualità, la quale soddisfa un bisogno. Quindi il valore d'uso è dato dalla qualità della merce, dal fatto che quella merce soddisfa un bisogno. È il livello zero della merce. Poi, secondo passaggio, la merce acquisisce un valore di scambio che per Marx consiste nella quantità di lavoro socialmente necessario per produrla. In sostanza, come valori, tutte le merci sono soltanto misure determinate di tempo di lavoro coagulato. Attenzione, questo è molto importante perché dal mio punto di vista qui è proprio dove l'analisi marxiana è manchevole, ma poi ci torniamo. Quindi la merce ha un valore d'uso legato alla sua capacità di soddisfare un bisogno e acquisisce un valore di scambio che per Marx consiste nel tempo di lavoro coagulato, ovvero nel tempo che un lavoratore ha impiegato per produrre quella merce. Questo porta Marx a pensare che lo scambio di merci, come diciamo all'inizio, non sia un rapporto fra le cose, gli oggetti, come gli economisti Davide Riccardo, Adam Smith pensavano, ma è un rapporto fra uomini. C'è un rapporto fra il tempo che gli esseri umani dedicano nella produzione di quella merce. Tempo coagulato. Da questo punto di vista Marx trae una conseguenza che anche la forza al lavoro è una merce. Cioè il lavoro, la capacità, la competenza, il talento, la fatica che un uomo mette nel suo lavoro, la forza al lavoro, è la merce che viene acquistata dal capitalista. dal capitalista all'operaio in cambio del salario. Questa è la conseguenza del fatto che Marx vede appunto l'economia della merce come un rapporto fra uomini e non fra oggetti. La questione però è che per Marx la forza al lavoro è una merce molto particolare perché al tempo stesso è ciò che dà valore alla merce prodotta. Cioè la forza al lavoro nella produzione di questo mouse dà valore a questo oggetto perché il valore di scambio cioè il valore d'uso che è ciò che l'oggetto fa, il bisogno che soddisfa. Ma c'è anche la forza al lavoro ovvero il tempo lavoro coagulato da parte mia che l'ho costruito. Nel caso fossi io il costruttore di questo mouse evidentemente. quindi la mia forza al lavoro è anche ciò che dà valore alla merce che poi viene scambiata. Ricapitolando io ho la mia forza al lavoro la vendo al capitalista il capitalista la compra in cambio del salario attraverso la mia forza al lavoro produco una merce il mouse che tiene in sé anche il valore acquisito grazie alla mia forza al lavoro. Bene esempio in sei ore questo è un esempio che fa proprio Marx in sei ore di lavoro un operaio scambia sufficiente forza lavoro per la sua sussistenza. Mettiamo il caso che io abbia bisogno di 50 euro al giorno per mangiare soddisfare i miei bisogni e esistere in sei ore di produzione di mouse io riesco a soddisfare questa mia questa mia esigenza ma il capitalista lo espropria l'operaio di altre sei ore per creare plus valore perché il capitalista ha comprato 12 ore lavoro all'operaio questo per tutti i motivi detti prima per la divisione del lavoro per l'esproprio dei mezzi di produzione e tutto quanto porta all'operaio miseria e alienazione al capitalista porta plus valore cioè la differenza fra il costo della forza lavoro e la differenza fra ciò che ha pagato per la forza lavoro e il valore tratto poi dalla merce prodotta questo è il plus valore scusatemi inoltre il capitalista trova due modi essenziali per aumentare il plus valore due modi che impattano ulteriormente sulla vita del lavoratore in primo luogo una cosa che Marx vedeva molto nel suo mondo prolungare la giornata lavorativa cioè il plus valore assoluto riesco ad avere plus valore in più dare investire utilizzare via dicendo che però aliena il lavoratore del suo lavoro ulteriormente aumentando le ore lavoro anche se a te bastano sei ore per la tua sossistenza io ti faccio lavorare dieci ore dodici ore tradici ore e poi anche il plus valore relativo ridurre la giornata di lavoro necessario per il soddisfacimento della mia sussistenza quindi aumentare l'oiato fra il mio bisogno di sussistenza è il guadagno che poi si trae dalla vendita di quella merce e nella visione di Marx nel sistema capitalistico ci sono tre fasi per aumentare la produttività la prima fase è la cooperazione fra industrie per cosa per la suddivisione dei costi ovvero ridurre la giornata di lavoro necessario cosa vuol dire vuol dire che anche questa è una cosa che si faceva molto all'epoca di Marx ma in realtà sta tornando in auge adesso in crisi energetica due aziende due industrie si mettono insieme per il riscaldamento dei loro locali tu hai lo stesso numero di operai hai lo stesso numero di merce prodotta ma suddividi i costi quindi la cooperazione fra industrie è suddivisione dei costi Marx questo lo fa come diciamo così da un connotato negativo a questa cosa qua perché di nuovo c'è il fatto di aumentare il surplus e il plus valore a me sembra una cosa molto positiva soprattutto insomma nell'ambito se prendete l'ambiente ben venga che le aziende facciano cooperazione per suddividersi i costi però insomma è la prima fase per aumento del plus valore seconda fase la suddivisione del lavoro e della manifattura e qui voglio farvi una lettura perché è importante scrive Marx nella manifattura l'arricchimento di forza produttiva sociale da parte dell'operaio complessivo e quindi del capitale è la conseguenza dell'impoverimento delle forze produttive dell'operaio la suddivisione del lavoro è l'assassinio del popolo ecco questa è una delle idee più terrificanti di Marx voi sapete ci ho fatto anche un video quando Orsini scrisse quel post terrificante sulla sua pagina facebook in cui denunciava la specializzazione la suddivisione del lavoro il fatto che in realtà un intellettuale dovrebbe padroneggiare ogni campo del sapere delirio totale ecco ricordiamocela questa cosa qua perché Marx è uno dei promotori dell'idea secondo cui la suddivisione del lavoro è di per sé qualcosa di sbagliato e io credo che questo sia una delle cose più inaccettabili perché ricordiamoci che la suddivisione del lavoro e la specializzazione sta alla base non solo del lavoro della produzione capitalistica ma anche della ricerca scientifica della nostra conoscenza di ogni ambito quando io nel corso della mia carriera divulgativa ho detto spesso attenzione Marx è un conservatore l'ho detto perché Marx nella sua analisi del capitale esprime delle idee estremamente retrograde nell'ambito dello sviluppo tecnologico del progresso e via dicendo per fortuna il lavoro viene suddiviso e non è vero che la suddivisione del lavoro è alienante di per sé non è vero che la suddivisione del lavoro è l'assassinio del popolo anzi grazie alla suddivisione del lavoro abbiamo aumentato le nostre conoscenze a dismisura per poter per esempio migliorare le conoscenze in ambito medico tecnologico ma stiamo scherzando questa è una delle idee più retrograde e invecchiate peggio di Marx il problema è che è una delle idee centrali di Marx perché nell'ideale di Marx l'unico lavoro che non alliena l'essere umano è quello in cui l'essere umano padroneggia la produzione di qualcosa di compiuto ma in una società complessa questa roba non esiste non c'è più nessuno se non piccoli artigiani sperduti e di lavori molto fattibili da un individuo che possono produrre vivendo che cazzo ne so oggetti che poi hanno il loro spirito io riesco a farlo questo io la produzione di video di podcast e dei miei libri per quanto sia un lavoro estremamente suddiviso io ci rivedo la mia traccia ma in realtà attenzione la suddivisione del lavoro e delle conoscenze è uno dei motori essenziali del progresso questo è uno dei motivi per cui io ribadisco sempre Marx nel pensiero marxiano c'è un qualcosa di retrogrado primitivista che io ho sempre rifiutato enormemente e poi c'è il terzo la terza fase per aumentare la produttività l'avvento delle macchine della grande industria che ovviamente cosa cosa fa due conseguenze la prima è aumentare la produttività nel senso che arriva più merce ma dall'altra parte rende obsoleto l'operaio l'automazione e cosa volete anche lì tante compagini marxiane vedono nell'automazione totale invece l'obiettivo finale altri invece no però non voglio entrare in questo ambito perché se no si finisce nei meme il punto essenziale da comprendere è che di questi tre elementi uno è positivo la cooperazione tra industrie l'altro è molto positivo la suddivisione del lavoro terzo le macchine la grande industria insomma si vede che l'analisi marxiana in ambito economico è invecchiata molto velocemente e molto male ok quindi per quanto io possa discutere in modo anche interessato tutte le sue visioni antropologiche filosofiche le conseguenze che trae da queste cose secondo me sono nella peggiore ipotesi terribili nella migliore invecchiate molto male a quel punto però secondo marx il plus valore quando ci sono queste tre fasi cooperazione suddivisione del lavoro e macchine e grande industria il plus valore è come se prendesse vita propria perché il plus valore al tempo stesso elimina la concorrenza in quanto il capitalista grazie all'aumento del plus valore può rendersi inarrivabile tecnologicamente ai concorrenti e distruggerli quindi produzioni di monopoli e dall'altra parte rende obsoleto l'operaio aumentando a dismisura la classe dei miserabili dei poveri dei derelitti e lì accade una cosa scrive Marx ogni capitalista ogni capitalista ne ammazza molti altri con la diminuzione costante del numero dei magnati del capitale che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi di questo processo di trasformazione cresce la massa della miseria della pressione dell'asservimento della degenerazione dello sfruttamento ma cresce anche la ribellione della classe operaia che è sempre più si ingrossa ed è disciplinata unita e organizzata dallo stesso meccanismo del processo di produzione capitalistico il monopolio del capitale diventa un vincolo del modo di produzione la centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono un punto in cui diventano incompatibili con il loro involucro capitalista ed esso viene spezzato suona l'ultima ora della proprietà privata capitalistica gli espropriatori vengono espropriati e qui c'è l'avvento del comunismo quindi nella profezia di Marx l'avvento del comunismo è assolutamente inevitabile è congenito al capitalismo ora il problema i problemi sono tanti in questa cosa però il problema è che Marx non spiega molto anzi non spiega niente di come la società dovrà conformarsi ma è convinto che dopo l'eliminazione della proprietà privata e dopo un periodo di transizione che lui chiama dittatura del proletariato il potere politico si disgregherà da solo e così nascerà la società senza classi la società senza stato le pagine in cui Marx afferma queste cose qua sono oggettivamente delle pagine di scarso valore filosofico di propaganda politica più che di interesse culturale ed è il momento in cui il marxismo diventa religione diventa un atto di fede e le premesse di un pensiero potente secondo me si depotenziano drasticamente leggiamo perché qui c'è proprio tutta l'unica ecco quando questa cosa mi fa ridere quando io faccio l'obiezione del fatto che Marx non ha prodotto una teoria dello stato mi si fa l'obiezione dicendomi no guarda che lui dice come lo stato dovrebbe fare ecco le righe in cui Marx dice come lo stato dovrebbe fare sono queste uno espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della rendita fondiaria per le spese dello stato due imposta fortemente progressiva tre abolizione del diritto di successione quattro confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli cinque accentramento del credito in mano dello stato mediante una banca nazionale con capitale dello stato e monopolio esclusivo sei accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano dello stato sette moltiplicazione delle fabbriche nazionali degli strumenti di produzione scusatemi dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo otto qualcosa di traverso leggendo queste parole era inevitabile uguale obbligo di lavoro per tutti costituzione di esercizi industriali specialmente per l'agricoltura nove unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e dell'industria misure atte a eliminare gradualmente l'antagonismo tra città e campagna dieci istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli eliminazione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche della forma fattuale combinazione dell'istruzione con la produzione materiale e così via quindi alternanza scuola-lavoro fondamentalmente ecco cioè dal mio punto di vista queste poi sono parole che si commentano da sole ogni volta e queste cose che piaccia o meno ai nostri marxiani simpatici sono state fatte sono state applicate con risultati disastrosi ogni volta in cui sono state implementate è successo il macello perché in realtà c'è un accentramento devastante e la dittatura del proletariato in realtà è una dittatura e basta e diventa una dittatura dei pochi perché? perché dal mio punto di vista l'analisi di marx antropologica non funziona non funziona l'uomo non è l'uomo di marx tutto lì e allora vado a concludere e poi passiamo a qualche domanda vostra quella di marx è una filosofia estremamente interessante perché è una filosofia con vocazione pratica che si dà il compito di ridurre la sofferenza questo lo dobbiamo riconoscere l'intenzione di marx soprattutto contestualizzata nel suo mondo nel suo tempo è una filosofia che nasce dall'osservazione di una sofferenza che lui vuole migliorare che vuole eliminare e io credo che questo sia importante perché la filosofia si dovrebbe dare anche non è l'unico anche il compito di fornire all'essere umano modi per ridurre la sua sofferenza poi la filosofia è sempre sconfitta perché la sofferenza fa parte dell'essere umano ma è sicuramente una cosa interessante quella di marx è un'ambizione scientifica e anche questo è un aspetto molto interessante il tentativo di produrre un discorso filosofico che abbia un'ambizione scientifica di rigore scientifico nonostante questo ha prodotto masse di religiosi che se ne sono fregati dell'aspetto scientifico e analitico e sono legati soltanto alle profezie quello è colpa di marx non credo ed è oltre tutto questo anche un nuovo sguardo sull'uomo che non va sottovalutato che ha cambiato il modo con cui noi intendiamo l'essere umano e questo è un patrimonio ragazzi è un arricchimento e anche se lo rigettiamo e io rigetto l'idea di uomo data da marx però è uno strumento in più per pormi domande ma ma e qui passiamo alle parti critiche quella di marx è una visione antropologica che decide di dimenticarsi della parte individuale psicologica sminuendola mettendola da parte facendola passare per risultato di fattori materiali e io non credo sia così per me questo è uno dei motivi principali per cui i marxismi sono sempre finiti male per il tipo di concezione antropologica che si dà dell'essere umano non funziona molto meglio Max Weber io credo che le analisi di Max Weber siano pur non rigettando assolutamente l'analisi di Marx un ottimo completamento che dà anche la psicologia e al allo spirito dell'essere umano la sua dimensione la quale ha un'influenza sulle condizioni materiali di vita e quando ci dimentichiamo del fatto che l'essere umano in quanto individuo ha una sua interiorità e che la sua volontà conta rischiamo di far danni l'approccio marxiano è molto utile e molto proficuo quando si tratta di sociologia scienze sociali antropologia culturale certamente perché ogni disciplina che abbia un desiderio di ambizione scientifica dovrebbe non tener conto dell'individuo del suo animo della sua volontà ma studiare le cose con le masse con la statistica certo ma se poi nell'ambito politico nell'ambito filosofico ci dimentichiamo dell'interiorità finiamo male come è sempre finito male il marxismo perché se ti dimentichi dell'interiorità tutti quanti diventeranno soltanto il mezzo per raggiungere uno scopo e il marxismo politicamente è sempre stato questo ed è il motivo per cui Mao ha fatto decine di milioni di morti per cui i gulag hanno fatto decine di milioni di morti per cui il comunismo ha fatto un massacro nel novecento per me il problema del marxismo politico è che si convince di quell'idea antropologica che è sbagliata e non posso farci nulla ragazzi questo è il mio presupposto poi mi sbaglio però poi i fatti storici un po' di ragione me la danno l'altra critica che faccio è che il materialismo storico diventa una metafisica è inevitabile perché in realtà come dicevo fa uscire Hegel dalla porta e la fa rientrare dalla finestra le condizioni materiali come movimento di tutto quanto diventa un progetto metafisico trascendentale e ultima critica è che la dialettica per quanto possiamo avere stima della dialettica come metodo filosofico dicendo la dialettica non può essere scientifica non può essere scientifica al massimo può essere un metodo da contestualizzare ma se la prendi in sé per sé così rischia di diventare una fede e in effetti è diventata una fede detto questo leggetelo Marx leggetelo perché comunque può arricchire e leggetelo soprattutto se queste idee vi risultano difficili a digerire perché dobbiamo leggere coloro con cui siamo in disaccordo se non lo facciamo diventiamo dei coglioni e allora non volete essere coglioni leggete anche Marx non solo e con questo è tutto e quindi adesso dedico qualche minuto alle domande in chat e poi ragazzi andrò a svaccarmi perché sono distrutto grazie mister bocca che ha regalato 5 abbonamenti grazie mille grazie mille Riccardo dice non credo che l'individualismo debba essere rigettato a priori dalle scienze sociali no beh Riccardo le scienze sociali non può ma come allora tutto ciò che è scienza non può presupporre l'individualismo cioè come fai come fai a creare un sapere scientifico che tiene conto dell'individualità non puoi cioè nel senso il metodo scientifico è un metodo in terza persona e va benissimo così il problema si ha quando questo metodo in terza persona lo si vuole attribuire anche all'individuo quello è l'errore ma non puoi fare scienza con la prima persona non puoi fare scienza con la soggettività come fai non puoi Goyo chiede quanti abbonamenti hai 2000 guarda te lo dico subito ti dico a quanto siamo adesso spero non so se mi aggiorna il counter durante la live ma ci provo vediamo 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 cosa mi dice tac 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 le siamo a 55 abbonamenti mancano 55 abbonamenti ragazzi ai 2000 dai su abbonatevi regalate abbonamenti che prima della fine di questa live arriviamo a 2000 allora andiamo a prendere qualche qualche domanda allora bin salman dice perché dici che le teorie e le leggi collettiviste falliscono perché fallisce l'antropologia marxiana è dimostrabile anche matematicamente che essendo il mercato in movimento non può essere ingessato non capisco la tua domanda la prima la prima parte la capisco le teorie collettiviste falliscono perché partono dall'idea che l'individuo non conti nulla il fatto che la sua volontà non conti nulla non capisco la seconda parte della domanda Alberto chiede Marx come avrebbe visto la rivoluzione digitale avrebbe visto questo lavoro meno materiale ancora più alienante oddio è molto difficile questo perché sono proiezioni che non si maneggiano facilmente credo che non l'avrebbe vista di buon occhio ecco credo l'avrebbe vista come figlia poi di tutta quella rivoluzione industriale che lui aveva criticato fortissimamente grazie Mr. Bok altri Goyu Goyu ha regalato 50 abbonamenti Mr. Bok altri 5 siamo a 2000 siamo a 2000 siamo a 2000 signore e signori 2000 grazie a questa fantastica community grazie a Goyu che ha dato la spinta la spinta e grazie mille veramente grazie mille mamma mia siete siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo meraviglioso prima di Natale grandi un altro applauso a voi un altro applauso a voi festeggiamo splendori festeggiamo festeggiamo che bello grazie cari grazie mille veramente grazie a tutti quelli che stanno abbonando grazie per il sostegno è sempre una cosa molto importante vedere quanto credete nel nostro progetto grazie Mr. Matt dice io sono tecnico meccatronico e so per certo che le macchine non riusciranno mai a sostituire il lavoro umano ma lo diminuirà secondo te UBI è l'orario del lavoro diminuito aiuteranno allora anch'io sono convinto di quello che dici sono convinto che le macchine non sostituiranno in toto il lavoro umano per tanti motivi che però adesso qua non affronto perché altrimenti sarebbe troppo lungo grazie a Bin Salman che ha fatto anche l'upgrade al capitano anti zombie grazie mille sicuramente questo sicuramente l'aumento dell'automazione comporterà dei cambiamenti nel nostro mondo non credo che l'automazione porterà dei cambiamenti radicali e repentini credo saranno dei cambiamenti forti ma sul lungo periodo anche perché sono convinto che non vogliamo tagliarci le palle cioè non vogliamo non vogliamo che l'automazione riduca drasticamente i consumatori ok molto semplicemente credo sia questo il punto essenziale e quindi ci saranno misure politiche lo UBI cioè lo Universal Basic Income secondo alcuni è la strada maggiore diminuzione dell'orario di lavoro e via dicendo io non te lo so dire credo che in futuro una forma di UBI ci sarà ma sarà molto difficile implementare perché noi lo sappiamo se tu dai un reddito a tutti quanti gli esseri umani i prezzi salgono inevitabilmente però staremo a vedere io credo che una società molto automatizzata sarà estremamente diversa da quella che conosciamo noi quindi è anche molto difficile prevedere Lorenzo chiede in che misura possiamo esimere Marx dalla colpa delle distruzioni che il comunismo ha creato dalla ultima lettura che hai fatto è evidente che intenzionalmente assumo dai toni propagandistici allora ho una domanda sempre molto difficile a cui rispondere perché voi lo sapete cioè nel senso sono molto restio ad attribuire ai filosofi le colpe degli interpreti del loro pensiero quando la gente dice che Nietzsche ha ispirato i nazisti io mi incazzo in Nietzsche ci sono tantissime cose che contraddicono palesemente queste idee possiamo dire che se prendiamo il Marx del manifesto il Marx del manifesto delle responsabilità ce le ha per quanto fosse in buona fede non credo che Marx abbia mai inteso con le sue teorie il massacro che Mao ha portato avanti in Cina non credo che Marx con le sue teorie avesse mai inteso i gulag di Stalin sicuramente Marx era consapevole che gli stravolgimenti da lui previsti avrebbero causato delle vittime e si sapeva che non sarebbero state poche non credo che avrebbe previsto i milioni di morti del comunismo non credo ha responsabilità se noi attribuiamo responsabilità di questi milioni di morti a un filosofo rischiamo di creare un precedente enorme i filosofi non sono responsabili dei milioni di morti il suo pensiero va criticato per quello che è e bisogna criticare i presupposti filosofici perché li critico perché credo che alcuni di questi presupposti come ho detto stasera abbiano anche portato a certe interpretazioni però è una domanda veramente troppo complicata la tua a cui non ho una risposta definitiva vediamo un po' Riccardo chiede perché nonostante la visione internazionalista molti movimenti comunisti hanno collimato con il nazionalismo mi viene da pensare il Vietnam o la stessa Unione Sovietica perché il marxismo è diventato una religione allora mi sembra che ci siamo ragazzi mi sembra che ci siamo e quindi io credo che possiamo chiudere la puntata qui io sono molto contento perché mi hanno raggiunto i 2000 abbonamenti grazie facciamo un applauso a questa community sono altrettanto contento perché credo sia venuta fuori una bella live monografica e ringrazio tutti quelli che hanno fatto le loro domande e grazie anche a tutti quelli che si sono abbonati grazie mille per il sostegno siete fantastici 1000 o 10 milioni non cambiano il fatto che le sue teorie sono pericolose ah sono pericolose come dice Jung il fatto che un pensiero sia pericoloso non significa che non dobbiamo esprimerlo e ci mancherebbe però dall'altra parte sì sono d'accordo cioè nel senso non è una questione di numeri è una questione di presupposti filosofici spero di aver restituito almeno un po' del barlume comunque di un pensiero che volenti o nolenti è un pensiero abissale enorme importante e spero di aver reso giustizia di questo pensiero spero quindi di aver sempre fatto il miglior il miglior lavoro possibile nella difficoltà di diciamo così liofilizzare una tale complessità in due ore di live però insomma io ci ho provato io vi ringrazio tanto per essere stati con noi con me anzi domani ci vediamo alle 12 per feed domani facciamo l'ultimo feed del 2022 e l'ultimo feed da questo studio quindi siateci alle 12 facciamo il primo feed Q&A quindi facciamo delle domande delle risposte su feed e sarà divertente sicuramente quindi vi aspetto e poi alle 18 domani vi racconterò i miei top e flop del 2022 libri film videogiochi serie tv tutto quello che mi è piaciuto non mi è piaciuto anche strumenti tecnologici ci faccio una recensione sarà un daily cogito così insomma un po' leggero con anche consigli di visione e via dicendo quindi siateci e io vi ringrazio di nuovo tanto per essere stati con me è stata una serata credo edificante e tranquilli di monografiche ce ne aspettano ancora tante ma la prossima sarà nel nuovo studio ok quindi insomma vi aspetto e vi aspetto al Cogito Festival grazie mille a tutti buona serata e un abbraccio fatti bravi grazie mille a tutti